Il rigoletto è un uomo deluso dalla vita, un uomo solo, o almeno lui si sente solo, che ha l'unico speraglio di vita, l'unica speranza è sua figlia. È un uomo che vive la sua diversità in modo forte, cerca in tutti i modi di migliorare la sua vita, ma non tanto per lui, soprattutto per la figlia. Tutto quello che fa, lo fa per la figlia, e quindi per me è un uomo d'onore. Gilda è una giovane donna che scopre se stessa in un momento in cui purtroppo la vita le va contro, è contro di lei, contro i suoi desideri e contro le sue aspettative di vita. Quindi si ritrova a dover affrontare la vita con una forza, forse più grande di lei, che la porta ad un finale tragico purtroppo, la porta a morire. Io però considero la morte di Gilda come un atto di libertà, perché lei sceglie di morire, non si fa uccidere passivamente, quindi la considero una donna forte, che purtroppo deve subire un destino triste. In questo one, il duke è il leader del ballet, il leader del dance, è più o meno il boss della produzione della produzione. Questo duke, il motivazione è di prendere davanti di essere il boss, e è abbastanza di farlo, perché potrebbe succedere in business, in companies, e questo è quello che rende difficile, perché ha usato questo potere per aburre il sistema. Può avere qui vuole, perché è il boss. Per me è un grandissimo onore poter cantare uno dei miei ruoli preferiti, il ruolo che ho cantato di più in giro per il mondo qui a Rouen. Adoro cantare questo personaggio, e questo teatro davvero c'è un ambiente stupendo, stiamo lavorando benissimo, c'è un team di supporto molto importante, e devo dire che poter cantare questo ruolo, il mio ruolo, se posso dirlo così, dopo la mia gravidanza, dopo aver dato alla luce una bambina stupenda, e quindi un momento importante per la mia persona, fisicamente e psicologicamente, poterlo cantare qui, in questa maniera, e affiancata anche a mio marito, è una... speciale, è tutto davvero speciale, rende tutto davvero perfetto, quindi sono davvero molto felice. È fantastico. Rigoletto è l'opera della vita, penso. E ho fatto tantissime produzioni come Marullo. Ho ascoltato e ho visto cantare grandi Rigoletti. Anche grazie a mia moglie ho visto tante produzioni di Rigoletto con grandissimi artisti, e ho sempre visto il ruolo come un punto d'arrivo. Adesso che mi ci ritrovo, mi rendo conto che è un'opera completa. Mi sono felice, mi sono felice, perché l'ultima volta che mi cantava il Duc, era 5 anni fa, e ho ricordato di capire come cantare il Duc, in quel momento. Ora sono 5 anni più, 5 anni più matura, 5 anni, spero di essere un migliore cantante. Mi sono felice di cantare questo, e mostro il pubblico quello che ho avuto. Mi sono davvero sperimenti alla produzione. Grazie. Grazie a tutti.